buonasera mi è tornato alla mente oggi uno dei tanti una delle tante mie testimonianze di una vita sulle occhiaie stasera e sono di nuova tutta scolata tutta sudata vedo l'ora di cacciarmi in doccia allora dicevo una testimonianza di una vita che mi è tornata in mente oggi di tanti tanti anni fa era il 95 vivevo a roma io in quel periodo era successo un incidente a catena in autostrada non mi ricordo di preciso dove anche perché all'epoca non c'era internet non c'erano le cose quindi quando qualche defunto mi raccontava qualcosa sì se era una cosa grossa la potevo leggere sui giornali ma altrimenti non era una cosa che c'era stato questo tamponamento a catena in autostrada e erano venute a mancare due o tre persone tra questi in una delle macchine coinvolte nell'incidente c'era una famiglia con un bambino piccolo la mamma moglie incinta e il marito si salvarono tutti tranne lui che però non ricordava bene se era morto direttamente nell'impatto questo lui stesso o se era uscito dalla macchina per cercare riaprire le portiere forse al figlio dietro o alla figlia dietro non mi ricordo se era un maschio una femmina e era stato investito comunque era era l'unico della famiglia a essere stato ucciso da questa catena di colpi non riusciva a collegarsi bene e quindi riusciva a raccontare in qualche modo la storia solo per immagini ma avendo avuto un trauma durante la morte le immagini specialmente del racconto dell'incidente via dicendo risultavano parecchio confuse non riusciva a farmele vedere in maniera sequenziale e giusta comunque capì a grandi linee quello che era successo poi peraltro il giorno dopo due giorni dopo appunto lessi anche l'articolo sul giornale ma ora dico l'ho letto tanti anni fa poi non è una cosa che capitandomene abbastanza spesso di queste situazioni non è che poi io tengo a mente posti orari e via dicendo succedono cerco di aiutare dove posso dove non posso non aiuto in quel caso lì non potei far nulla però il il signore in questione ragazzo era giovane venne a raccontarmi quello che era successo non parlava però ripeto mi mandava queste immagini sia da sveglia e stia mentre dormivo continuava a mandarmi questa serie di immagini lo vedevo vedevo lui però non riuscivamo a collegarci a livello sonoro e quindi non riuscivo a entrare o lui non riusciva a entrare proprio sulla sulla mia stessa lunghezza d'onda a livello sonoro quando capì che l'incidente c'era stato e via dicendo quello che era successo grosso modo e tutto quanto cambiò le sue immagini e mi fece vedere una casa dove abitava lui con la moglie la figlia nata se era una femmina la figlia nata e l'altra no l'altro no perché ancora la moglie era incinta mi fece vedere prima alcune scene di di vita familiare normale tranquilla con lui che arrivava da lavorare giocava con la bambina la moglie che preparava da mangiare andava a lavorare anche lei ma scene normali di vita serena poi mi fece vedere a ritroso la stessa casa che mi aveva fatto vedere prima arredata però in maniera diversa con due persone dentro adulte e due bambini due ragazzi un ragazzino e un bambino due maschi che giocavano insieme in quella casa poi mi fece vedere un'altra casa dove c'erano le stesse due persone adulte che avevo visto nella seconda immagine della dell'altra casa in un appartamento più moderno e con uno solo presumibilmente dei figli però già grande avrà avuto una ventina d'anni 20 22 e cominciò a farmi vedere a sequenze alternate la famiglia con i due ragazzi nella casa in versione antica diciamo e l'appartamento con i due adulti un po più invecchiati rispetto a come li vedevo di là ma erano loro perché la faccia era la stessa e quest'unico ragazzo un po più grande ci mesi un bel po a comprendere la situazione poi fortunatamente riuscì sempre tramite però immagini tramite visioni a scrivermi e fortunatamente in italiano dei piccoli pezzi di modo che io potevo capire grosso modo la situazione in poche parole questo questo uomo era disperato per qualcosa che riguardava proprio quella casa da quello che capì quel giorno i due personaggi che vedevo più giovani in una casa e poi più anziani nell'altra erano i suoi genitori i due ragazzi che vedevo nella casa antica erano lui e suo fratello mentre nella casa nuova vedevo i genitori come sarebbero stati in quel periodo presumibilmente o poco prima e il fratello di lui ormai cresciuto da lì riuscì ma ci erano giorni e giorni di contatti continui per riuscire a capire la situazione che in pratica sia la casa appartamento dove viveva lui con la moglie e sia l'appartamento dove vivevano attualmente i genitori col fratello erano entrambi di proprietà dei genitori che avevano sempre dichiarato che la casa dove viveva lui con la famiglia nuova diciamo con la moglie e con la figlia sarebbe stata la sua mentre invece l'altro appartamento lui avrebbero lasciato a all'altro figlio con la sua morte sembra invece che la famiglia di lui si sia accanita per rivolere in qualche modo la casa che era rimasta alla nuora e alla nipote e in contemporanea si erano attaccati anche ai soldi dell'assicurazione dell'incidente che invece sarebbero aspettati completamente alla moglie e ai figli e lui continuava a chiedere in qualche modo di far sapere a questa alla sua famiglia che peraltro la faccia un po da stronzi ce l'avevano anche almeno dalle immagini che lui voleva che tutto andasse a che le cose sue cioè perlomeno i soldi dell'incidente e la casa anche se era ancora intestata ai genitori era comunque destinata a lui lui voleva che andassero alla moglie e ai figli e non sapeva come fare io però purtroppo all'epoca ripeto era il 95 non non avevo la possibilità di cercare di contattare di parlare poi comunque sarebbe stato abbastanza complesso andare dove vado vado dalla madre gli dico ciccia tua figlia non vuole che gli rompi i coglioni sulla casa vedi di lasciare la tua nuora non rompere le palle e sciolati anche dai soldi che obiettivamente l'avrei anche fatto perché a me sta gente che fa ste cose in un caso come questo io do per scontato che ciò che c'è debba rimanere alla famiglia nuova e non che la famiglia vecchia ci si debba attaccare che poi personalmente io le persone che si attaccano ai soldi in certe situazioni le disprezzo talmente tanto che non riesco neanche a usare l'empatia per cercare di comprenderle e quindi mi sentì praticamente in ultimamente che nel 95 io avevo anche 20 anni e a 20 anni non ti esponi così tanto in certe situazioni ora come ora che ne ho quasi 50 46 e mezzo non me ne fregherebbe niente di andare anche eventualmente dalla madre di fai schifo come essere umano ma all'epoca non non avevo né il coraggio e né comunque nulla in mano di concreto a parte immagini che mi aveva fatto vedere per cui più volte gli chiesi se non avesse scritto gli facevo i gesti qualche testamento qualche foglio però giustamente era giovane in salute e tutto quanto mi faceva di no come per dire non ho lasciato scritto niente e tra l'altro il problema era anche che al 99 per cento da quello che avevo capito che mi aveva inviato a livello telepatico la proprietà comunque dell'appartamento o casa che dir si voglia dove viveva con la moglie era ancora intestata ai genitori non avevano già fatto le divisioni o le intestazioni e quindi anche in quel caso lì la moglie poverina era in tela di braga su quel lato proprio per quello almeno il discorso dell'incidente in sé perché lui era stato tamponato a catena e di conseguenza comunque sarebbe stato risarcito dalle assicurazioni nel brutto che possa essere pensare a un discorso finanziario davanti a una morte che comunque è sempre una cosa squallida ma oltre allo schifo la beffa del vedersi cercare di portare via anche quella mera consolazione tra virgolette da la vecchia famiglia d'origine penso che non ci sia cosa più schifosa che possa esistere e purtroppo sono cose che succedono più spesso di quello che si crede purtroppo quando si tratta di soldi la gente non guarda in faccia nessuno un altro dei motivi per cui la razza umana terrestre mi fa schifo ma casi di questo genere ce ne sono stati agliosa nella vita casi nei quali o per un motivo o per l'altro si cercava di togliere il giusto dovuto a una famiglia con l'attenuante di essere la vecchia famiglia d'origine io poi non non ho mai sopportato io fortunatamente non ci sono mai passata nel senso che non in incidenti e in morti ma non sono mai passata nei contrasti con le famiglie delle persone con cui stavo con cui sto però nella mia vita non ho mai avuto esperienze di contrasti con le famiglie anzi normalmente anche se mi mollavo con la persona con la famiglia rimanevo in ottimi rapporti a prescindere ma io sono anche una che non mi impiccio mai di niente non me ne frega niente non faccio le mie ragioni non mi interessa e non me ne frega manco una mazza di quello che pensi di me quindi se mi stimi mi fa piacere se pensi male non me ne può fregare meno per cui io continuo anche a salutarti non mi interessa proprio la situazione per cui ho un carattere molto particolare ma in generale non ho mai nemmeno sopportato quando a volte sento qualche amica qualche conoscente immischiarsi nella vita personale nella famiglia nuova che magari si è creata un fratello un figlio un nipote non le ho mai sopportate quelle cose lì anche quando si impicciano ripeto io non ci sono mai passata e ormai ho l'età per essere la suocera un domani e non più una nuora ma una nuora non ho fratelli ho una sorella che si fa la sua vita non mi sono mai impicciata degli affari suoi anzi io ho sempre detto che qualsiasi cosa dovessi vedere o sapere in generale non è mai successo niente ma dico capitasse che succedesse che vedo qualcosa che fa di sbagliato o mia sorella o mio cognato a me mi passa tanto alto che proprio non me ne può fregare di meno ovviamente un esempio ma avessi avuto sette fratelli la stessa cosa ma chi se ne frega la vita è la tua vai io guardo solo la mia di vita non me impiccio dalla vita degli altri come ho già detto anche in un altro video non sopporto nemmeno quei figli che si permettono di andare a rompere i coglioni alla vita dei genitori quando c'hanno un genitore solo che si trovano un nuovo compagno un nuovo compagno perché a loro non piace devono rompere i coglioni fatti la tua vita ma sciacquati dalle palle lascia vivere tua madre tuo padre chi che sia come gli pare lo stesso discorso nello è fatto per i figli una volta che il figlio è maggiorenne si sceglie chi vuole piace a lui piace a tutti tu muta non hai più voce in capitolo o muto che sia devi farti una baraccata di hats tua perché non ci devi vivere tu e giustamente secondo il mio punto di vista la nuova famiglia creata una volta che ci si crea una famiglia nuova deve comunque sempre venire al primo posto prima della famiglia d'origine la famiglia d'origine deve venire dopo inceso cazzi quindi e parlo di situazioni normali di tutti i vivi e di tutte persone che comunque si frequentano non si frequentano sono imparentati non sono imparentati figuriamoci in una situazione dove la vecchia famiglia di origine va anche a cercare di togliere il pidocchio alla vedova e ai figli dell'appunto del dipartito o della dipartita che fossero in questo caso era un uomo poteva anche essere una donna e invece purtroppo gente schifosa a quel modo ce n'è tanta che piange piange e poi cerca di farci soldi sopra poi il discorso dell'avere una giustizia è un altro paio di maniche avere una giustizia quando succede per esempio se l'incidente fosse causato da uno che arriva a 300 all'ora ubriaco ma ammazza per la strada chi dei parenti voglia giustizia per il defunto per carità tanto di cappello voglio dire sono sono cose che tante persone sentono in qualche modo di dover fare ed è giusto che le facciano ma quelle sono giustizie per lo meno il pensiero è di giustizia nell'altro caso invece sono delle mere ingiustizie e cattiverie proprio a livelli assurdi poi magari è gente che va anche in chiesa a pregare che gli vadano bene le cose e ricordo che l'unica sensazione che abbia avuto in questa in questo frangente era proprio di impotenza totale lì mi sarei anche forse buttata a cercare di aiutare ma il trafiletto stesso che parlava degli incidenti sul giornale dell'epoca non menzionava nemmeno i cognomi o altro lui come ripeto il defunto il fantasma chiamiamolo come volete aveva le idee parecchio confuse non ricordava nomi date via dicendo perché comunque aveva subito un trauma abbastanza forte con quella morte e quindi era tutto marasma mi era proprio impossibile sotto tutti i punti di vista cercare di aiutarlo cercare di metterci una pezza e lì non potei far altro che arrendermi e sperare più volte gli dissi a lui piuttosto cerca di andare in sogno magari ai tuoi cerca di fargli comprendere qualcosa anche se poi gente del cavolo a quel modo dubito che comprendano anche se gli apparì davanti però tentare non nuoce io dall'accanto mio non avrei potuto fare niente comunque dato gli anni che erano date le poche informazioni che avevo e tutto il resto però questa è stata forse una delle poche sconfitte che ho considerato tali perché più che stare lì e ascoltare la sua storia e farmi venire anche la gastrite al pensiero di questa famiglia del cavolo che aveva non potei fare altro ora poi con gli anni la gastrite un po mi è passata ma se ci ripenso ancora adesso mi salta il nervo infatti quando parlo di queste questioni mi si aggroviglia proprio lo stomaco e oggi come oggi con l'avvento di internet tante altre funzioni in più forse mi sarebbe stato più semplice riuscire a trovare i fili della matassa eventualmente anche riuscire a sputare in faccia qualcuno col mio carattere sicuramente ma purtroppo ripeto era il 1995 e più di tanto all'epoca non si poteva fa anche volendo niente testimonianza di una vita una delle tante che mi è tornata in mente oggi e ho detto stasera racconto questa anche perché non ho avuto molto tempo per organizzare la testa con qualche argomento invece di spiegazione ma tanto ne ho fatti due nell'ultimo periodo che sono ancora in fase di commenti dovunque e quindi questa testimonianza di una vita l'ho raccontata così un consiglio che do sempre a tutti a riguardo è sempre lo stesso di non intromettersi mai nella vita di nessuno che sia tuo figlio che sia tuo padre che sia tuo genero che sia tua nuora che sia tua suocera che sia tuo cugino non intromettersi mai nella vita e nelle decisioni che prendono le altre persone se uno vi chiede un consiglio si può dare un consiglio se uno vi chiede un'opinione si può dare un'opinione se uno non vi chiede niente vi dovete fare gli sani azz vostri a prescindere perché se non ve l'ha chiesto vuol dire che il vostro consiglio e il vostro parere non gli interessano prendetelo sempre per buono perché anche di là poi ci vedono e capiscono perché e per come avete agito in certi modi e quindi l'idea poi anche di fare schifo un domani al proprio figlio o alla propria madre o chi che sia non è neanche tanto bello ma anche di là potete fargli schifo quindi ragionate sempre bene io lo dico sempre quando uno è vivo può essere una brava persona e può essere una feccia quando uno è morto se era una brava persona rimane una brava persona ma se era feccia anche da morto rimane una feccia non ha senso dire morto era una brava persona se non lo era non lo era anche da morto rimane feccia il discorso uguale al contrario anche i morti si rendono continui infatti su certe questioni che ho conosciuto nella mia vita e via di cenno in passato ho sempre detto l'unica consolazione che ho è proprio quella che determinati defunti abbiano visto e abbiano capito realmente a volte che schifo di gente avevano intorno e questa seppur basta è comunque un po' di soddisfazione personale verso certi personaggi che veramente non si meriterebbero nemmeno di stare al mondo ma purtroppo esistono e bisogna tenerseli fine della testimonianza di una vita non so neanche come intitolarla la intitolerò se ci fosse stato un testamento che mi piace come titolo mi do la buonanotte ricordandovi che qua sotto ci sono tutti i link dei vari social che io frequento bazzico e saltello e un po' più sotto ci sono tre o quattro i più conosciuti degli invece mille mila link di librerie online e fisiche che tengono in vendita i miei libri che ad oggi sono sempre i soliti cinque progetti vari ed eventuali a parte che stanno prendendo forma mi rinnovo la buonanotte e moesco che devo andare a fare le foto alla mia mamma luna di fragola perché stanotte c'è la luna di fragola ciao